che ci preparerà De Bono Girdarella? Ciao amori miei eccoci qua eh allora oggi vi preparo una bella melanzana va bene? visto che ci piacciono poco semplice 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 ma proprio semplicissima eccola qua io la taglio a fette così vedete le grosse e le piccole allora qui ho messo tre uova e una manciatina di parmigiano ecco adesso ci metto qualche fetta di melanzana vedete mazza che bella sta melanzana c'hanno insieme belle belle sì quest'anno le melanzane sono state proprio favolose tagliarvi ecco allora qui dentro ho messo due belle manciate di pangrattato poi se serve l'altro lo mettiamo una bella manciata di prezzemolo tritata adesso ci mettiamo un po di pepe e un po di aglio granulare eccolo qua va bene va bene allora il sale non lo metto perché io dopo che ho cotto le melanzane ci metto il sale metto un po di parmigiano anche allora adesso nel pangrattato eh guardate che carina girdarella te donna al bianco girdarella bella di mamma i colori chiari così avete dei complimenti che mi fa mi fia vabbè non ho capito è vero bella di mamma lei perché non è carina non gli donano i colori chiari a girdarella allora amori miei un po dovetto rimane sempre quello col parmigiano allora voi che fate ci mettete un po di farina eccola qua e ci fate una bella frittatina poi ci mettete un po di sale battete tutto e fate una bella frittatina eccola qua girdarella girdarella una ne pensa e cento ne fa che frittatina e fate tipo buone come posso dire è pastellata insomma e adesso andiamo a frigge e andiamo va a girare un vero l'ora e andiamo va ti è mamma mia ragazzi si frigge e vai ah ti è senti che profumo mamma mia come è fatta rifaccio un po guarda che roba mi prendo il nasino ormai è partita a frigge questa ci frigge pure a noi qua con sta faccetta ecco eccole qua è quasi pronte mamma mia eccole qua sto svenio qui con sto dolore mamma mia guardate che belle che stai a scegliere quella che ti può mangiare è già la puntata no guarda mamma mia si è senti che musica raga qui è musica per il palato mamma mia andiamo a vedere guardate quanto sono belle sono proprio carine girdarella brava 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 ma sono buone quale carine mamma mia sono proprio buone guardate un po che ci ho fatto quell'ovetto queste pure sono buonissime quando vi rimane un po di uovettino un po di farina come ho fatto girdarella e fare due frittatine e vai ecco così stavo un pensiero mi pareva strano che quella ne assaggiavi no così no però mi fa venire troppa fame girdarella troppo troppo girdarella su mamma mia poi guardate mangiare così con gusto tripla proprio la fame mi viene mamma mia queste sono spettacoli mamma mia ragazzi ragazzi queste invece le perde allora fatele così perché sono veramente buone veramente buone 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 io mi manierei tutte ma proprio tutte solo quelle eh pura frittatina perché solo quelle perché che te ce vuoi mangiare una volta te sei poi quelle una tira l'altra perciò tipo la frittatina di girdarella una tira l'altra pure te quelle bella sprucchiarella e non si spregano le uova perché in genere esso rimangono sempre un pochino no invece così amori dei tanti baci grandi a tutti sempre dal cuore e dalla cucina di gilda e piatto ricco mece ficco